È il primo vescovo della diocesi più grande dell'India, Shamsabad, che include 23 stati e due isole. È un'eparchia di rito silo-malabarese, creata due anni fa da Papa Francesco, per rafforzare l'unità tra i cristiani in India. La diocesi di Monsignor Rafael Tatil ha anche un'altra missione, prendersi cura dei migranti e dei più sofferenti, non solo all'interno dei confini indiani. Infatti, molti membri della diocesi sono andati in Iraq per soccorrere i cristiani di questo paese. Il rito silo-malabarese deve molto la chiesa caldea. Quando il patriarca della chiesa cattolica caldea ci è venuto a trovare e abbiamo saputo delle difficoltà in cui si trova la chiesa caldea, ci ha chiesto se fosse possibile mandare missionari. Così abbiamo accettato e abbiamo mandato un gruppo di preti e un gruppo di suore per prendersi cura delle necessità della chiesa caldea. Questo legame tra la chiesa caldea e la chiesa indiana è nato nel primo secolo grazie all'apostolo Tommaso. In entrambi i paesi i cristiani sono una minoranza e per questo una popolazione che spesso si vede privata dei propri diritti. In India la chiesa lavora per promuovere il rispetto e la dignità per le persone più povere, che molte volte sono cristiane. Il sistema delle caste può sembrare una cosa del passato, ma la mentalità classista non lo è affatto. Se vieni a Kerala, maggioranza cristiana, e fai riferimento alla casta di qualcuno, vieni perseguitato. Qui è presente un sentimento di eguaglianza, probabilmente grazie alla presenza cristiana. In altre parti tutto questo è proibito dalla Costituzione, ma la mentalità non è cambiata. La Costituzione non può cambiare le persone. Non voglio dire che ci sia ancora un sistema delle caste in India. Teoricamente no, ma l'idea continua a influenzare tutto il paese. In ottobre i vescovi indiani hanno partecipato alla visita dell'Imini a Roma. Il Papa ha assicurato la sua volontà di poter visitare l'India un giorno. Siamo emozionati. Lo è tutto il nostro paese, inclusi gli induisti e i musulmani. La nostra gente aspetta di vedere il Santo Padre faccia a faccia, di ascoltare le sue parole. Monsignor Tatti ricorda questo momento come un incontro familiare, nel quale Papa Francesco ha avuto un dialogo sincero e aperto con loro. Una visita del Papa in India sarebbe un segno di speranza per la minoranza cristiana, che conta poco più del 2% della popolazione di un miliardo e 340 milioni di persone, a maggioranza induista.